Società sportiva ASD Sport in GAU Arbia. La gente si chiede come mai GAU? Anche qui è una parola per dare dei valori a quello che noi facciamo. E' venuto GAU perché è un acronimo che significa gli angeli umani. Gli angeli umani riferiti a chi? Riferiti ai bambini perché i bambini se non sono angeli che cosa sono? Questa società sportiva come è nata? È nata da due o tre amici e il mese di nascita è stato, anzi giorno, mese e anno è stato il 21 ottobre del 2012. Per quanto riguarda i corsi per gli adulti, Zumba, Total Body e Pilates abbiamo avuto un bel successo perché tra tutte e tre i corsi abbiamo girato anche intorno alle 150 persone. E poi sullo sport siamo andati sulla palla a volo e calcetto. E anche qui raggiungendo una sessantina di ragazzi, 60-70 ragazzi. Gli pop è una danza che oltre come tutti gli altri sport sviluppare i muscoli principali di gambe, addominali, schiena, braccia, insegna a prendere coscienza e ad utilizzare ogni singolo muscolo del proprio corpo. Che sia alla punta di un dito, alla punta del piede e anche al cervello perché attraverso le coreografie si stimola in continuazione sia ogni singolo muscolo del corpo che la mente.